un bel ritrovato a tutti gli appassionati di basket qui Emanuele Maffezoni che vi parla dal palo a Moretto di Desio dove tra pochi minuti andrà in scena la sfida tra la palla a canestro da Desio, sponsorizzata da Rima Desio e l'Urania Milano formazione che con 10 punti precede in classifica il blu-arancio partita importante per Desio, le squadre arrivano in maniera diametralmente opposta a questa sfida Desio ridice le due sconfitte contro Faenze e Orzinuovi Milano ha vinto invece a Crema e contro Padova ed oggi proverà a vincere qua al palo a Moretto per rilanciarsi in classifica al secondo posto gli arbitri dell'incontro saranno Lorenzo Grazia di San Pietro in Casale e Matteo Roiaz di Muggia andiamo a vedere i quintetti ricordando che coach Davide Villa, allenatore dell'Urania Milano dal 2006 al 2017 sulla panchina dell'Aurora sia con il settore giovanile che con la prima squadra è stato premiato prima della partita andiamo a vedere ora i quintetti con coach Frates che ritrova Francesco Villa mentre Davide Villa dovrà fare a meno di Andrea Scanzi una perdita pesante per il coach di Peper per l'Urania Milano Desio parte con Busetto, Perez, Fiorito, Giacomelli e Valentini scusate e Lenti risponde l'Urania Milano con Santo Lamazza, Elia Antonio Simoncelli Toffali e ovviamente Giorgio Piunti centro arrivato la scorsa stagione da 100 che nelle ultime due stagioni ha vinto la Serie B prima ad Orzinuovi e poi a 100 il signor Grazia è pronto a scolta la palla a due e si comincia primo possesso subito per Simoncelli che palleggia si arresta, va dentro da Piunti Piunti contro Lenti ribalta al lato Toffali che tocca la linea di fondo subito palla persa in apertura per Urania vede Perez che si è in carica della rimessa in gioco Busetto contro Toffali Perez vada Busetto che si appoggia il tabellano e sbaglia il primo tiro Lenti cattura il rimbalzo vada Giacomelli Giacomelli per Lenti fuori per Perez 5 secondi Perez si prova a buttare dentro si appoggia il tabellone primi due punti per Desio che conduce 2 a 0 Simoncelli riporta avanti Urania Toffali Toffali va ancora da Simoncelli contro Perez Santo Lamazza trova Piunti ancora Santo Lamazza arresto e tiro morbidissimo accolto dal ferro accanto a Bencabini impostazione di commento come al solito Luca Meda ben ritrovati intanto Busetto supera la metà campo c'è libero Giacomelli decide di andare da Perez ancora Busetto con 10 secondi sul cronometro da Giacomelli libero da 3 Giacomelli il tiro è da 2 scusate comunque Desio sul 4 a 2 conduce l'incontro dopo un minuto e mezzo ancora Lurani in attacco Santo Lamazza chiama Toffali gli consegna il pallone va da Simoncelli ancora la Toffali sotto da Elio Antonio tiro forzato a rimbazzo c'è Busetto riparte Desio con Perez supera la metà campo sfrutta il blocco di lenti si prende una tripla Perez Perez con spazio Desio sul 7 a 2 Santo Lamazza aspetta il movimento dei compagni passa la paglia a Simoncelli Simoncelli da Elio Antonio cerchi di andare sotto da Piunti poi Varatofoli che attacca forza sbaglia chiede il time out coach Villa intanto riparte Desio con Busetto Fiorito con spazio da 3 da 3 10 a 2 grande partenza per Desio costretto a chiamare il time out coach Villa grazie a tutti forse si ritorna a giocare partenza fulminante di teso che conduce 10 a 2 simoncelli santo la mazza vada a piunti vediamo come esce un rai da questo coso da questo time out di Davide Villa scusate Toffali va a commettere fallo Giacomelli primo fallo di squadra si incarica della battuta Toffali santo la mazza simoncelli dentro per piunti contro Perez trova due punti Uragna che si sblocca 10 a 4 per teso Busetto sfrutta il blocco di Giacomelli si ritrova davanti Elia Antonio decide di puntarlo attacca, cerca un passaggio sotto canestro c'è il piede di piunti cronometro resettato a 14 secondi palla ancora per desio in attacco un palamoretto caldissimo tutto esaurito quest'oggi si incarica della rimessa Giacomelli va da Lenti tocca a piunti la palla sarà ancora per desio 7 minuti circa alla fine del primo periodo ancora Giacomelli a rimettere la palla in gioco e ancora da Lenti Lenti consegnato per Perez pallo fischiato a Simoncelli contro Perez è il primo di squadra per Milano nuovamente Giacomelli va da Lenti Lenti aspetta Giacomelli gli consegna il pallone 9 secondi 7 6 tocca a Perez e si alza ancora la 3 ancora la 3 Perez Deese parita caldissima dall'arco conduce di 9 lunghezze Uragna dall'altra parte con Eliantonio che cerca santo la mazza chiuso rischio di palla persa Eliantonio contro Fiorito con un tiro difficilissimo ma la classe del 30enne giocatore ex Rietti e Scaffati tra le altre si fa vedere poi va a spendere un fallo su Busetto secondo fallo di squadra ma quando mancano un po' più di 6 minuti alla fine del primo quarto Desio conduce 13 a 6 Lenti si butta dentro col contatto e ne mette due e l'arbitro va a richiamare Lenti Badesio conduce 15 a 6 e prova a entrare in gioco anche il pubblico del Palamoretto in attacco Simoncelli Malassanto Lamazza 13 secondi fallo in attacco fiscato a Piunti terzo di squadra si lamenta Coach Villa chiedendo spiegazioni primo fallo per il centro classe 90 rimetterà la palla in gioco Perez che va da Busetto che chiama un 4 alto supera la metà campo guarda Giacomelli che le restituisce il pallone poi Lenti in punta Lenti ritrova il pallone si appoggia al tabellone dopo averlo perso in precedenza altri due punti per Lenti Desi sul 17 a 6 più 11 massimo vantaggio Santo Lamazza forza e perde il pallone palla persa da Milano grandissima partenza da parte di Desio esce Piunti entra Paleari entra anche l'ex Desio Negri ed esce in classe 98 Toffali rottura prolungata di Milano in questi primi 5 minuti di gara Desio sta trovando grandi percentuali dall'arco 3 su 3 dalla lunga distanza 4 su 6 nel pitturato Lenti va da Giacomelli Giacomelli per Busetto Busetto ancora da Giacomelli che prova a battere Paleari che non difende col corpo ma sbraccia quarto fallo di squadra per Urania primo fallo per Capitan Paleari classe 81 la sesta stagione a Milano sfondo a Urania Lenti mette palla in mano a Perez contro Simoncelli si gira conclusione difficile che non va Paleari controlla il rimbalzo Santo Lamazza c'è dall'altra parte è entrato intanto l'altro ex di serata Andrea Negri Simoncelli trova nel pitturato Paleari 2 punti torna a meno 9 Urania ancora Busetto a portare avanti la manovra adesiana Giacomelli restituisce il pallone poi attacca va in angolo da Fiorito che si alza la 3 tira un po' affrettato errore del capitano può ripartire dell'Urania con Santo Lamazza sempre in cabina di regia aspetta da Simoncelli Simoncelli si butta dentro scarica la Santo Lamazza Elia Antonio da 3 il primo ferro gli dice di no rimbalzo difensivo di Perez riparte Busetto ancora dal Domenicano attacca giocatore con Lenti che va sotto forse c'è fallo secondo gli abiti è una semplice stoppata può ripartire dell'Urania ancora Elia Antonio in punta ma da Simoncelli sotto da Paliari Paliari contro Lenti si appoggia al tabellone invocano il fallo della panchina di Milano veloce Perez da Fiorito che si alza la 3 altra tripla spuntata dal ferro gioca bene Desio applaude un soddisfatto coach frate si in attacco ancora Milano con Santo Lamazza Santo Lamazza si prende un tiro da 2 fallo fiscato sul tiro da parte di Busetto è pronto a entrare Valentini eccellenti per Desio positivo Lenti che ha reso Parpe in focaccia a Paliari che l'aveva stoppato in precedenza 17-8 in lunetta Riccardo Santo Lamazza classe 83 scuola Roma esperienza in A1 a Biel ed in A2 a Pistoia Nagnilattina e Agropoli confermato dalla scorsa stagione lui che viaggia a 12 punti 5 rimbalzi e quasi 5 assist di media a partita mentre gli arbitri hanno qualcosa da dire a coach Villa che viene richiamato alla prossima protesta sarà tecnico e ritorna anche dopo un mese Francesco Villa che dà minuti di riposo a Paolo Busetto vediamo Villa che è un tipo di autonomia si è ricominciato ad allenarsi in settimana solamente giovedì con la squadra mentre Santo Lamazza mette un libero 2 su 2 mini parziale di 4 a 0 e torna a meno 7 Urania è proprio Villa che gestisce il primo pallone va da Perez Perez cerca il principe Giacomelli contro Elia Antonio col fisico prova a buttarsi dentro viene respinto alla difesa di Urania forzatura in questo caso di Giacomelli Santo Lamazza prova a far ragionare i suoi Elia Antonio va da Paliari Paliari da Andrea Negri fuori ancora per Santo Lamazza con spazio finta fuori per Simoncelli e poi c'è il fallo di Fiorito che viene battuto sul primo palleggio da Elia Antonio mentre arriva anche il turno di Xavier Brown che prende il posto proprio di Capitan Fiorito entra in campo Brown quando mancano 2 minuti e 44 secondi alla fine del primo periodo Simoncelli lasciato colpevolmente solo dalla difesa d'Esiana si prende un tiro da due che però non manda bersaglio e Villa può far ripartire la manovra di Blu-Arancio contro Negri va da Perez Perez Giacomelli contenuto bene da Santo Lamazza 7 secondi 6 Villa 4 3 deve prendere una tripla Villa se la prende cortissima non arriva neanche al ferro deve ritrovare la confidenza Kosh Frates infuriato con Giacomelli vuole che Desio torni a far girare la palla come nei primi minuti intanto Eliantonio non sa bene cosa fare del pallone poi scarica Giacomelli Brown tocca ma non riesce a controllare il pallone Eliantonio con grande agilità si butta dentro e trova altri due punti per il 17-12 supera la metà campo Villa sfrutta il blocco di Brown va da Perez Perez ha spazio si alza la 3 Perez Daniel Perez ancora la 3 Desio torna più 8 fischiato un fallo a Valentini è solamente il quarto fallo di squadra quindi non ci sarà bonus Desio esorisce il bonus solo in questo istante quando manca un minuto e 36 secondi alla fine di questo primo quarto rimessa dal lato corto del campo per Urania se rincarica Capitan Paleari 20 secondi sul cronometro dei 24 viene a ricevere Eliantonio contro Brown altro tiro cadendo all'indietro altri due punti di Eliantonio che riporta a meno 6 a Urania Villa supera la metà campo in palleggio mette palla in mano a Perez Perez contro Negri in isolamento palleggio reiterato del numero 4 Desiano che poi va al tiro conclusione che non va Simoncelli dall'altra parte Eliantonio trova dentro Paleari che ne mette altre due torna a meno 4 Urania e c'è time out per la rimadesio con Kosprazius che è indemoniato per la gestione degli ultimi possessi da parte dei suoi ragazzi a risentirci dopo il time out di Si torna a giocare al Palamoretto, rimadesio 20, superflavor Milano 16, poco meno di un minuto, possesso Desio, pronto a tornare Busetto ed esce Olivia Giacomelli, pressa tutto Campomilano che vuole provare a lucrare una palla persa. Busetto va ancora da Villa, Villa supera la metà campo contro la pressione di Negri, va da Busetto che rimette palla in mano al numero 7, che si butta dentro, poi scarica, rischio di palla persa, Brown salva, rimette palla in mano a Villa, che poi si alza ancora da 3 punti, sputata dal ferro, con un po' di fortuna, controlla il rimbalzo Urania, Simoncelli si butta dentro, viene fermata da un fallo di Villa ma Desio in bonus, quindi saranno due tiri liberi. Desio che era avanti di 11 punti, negli ultimi minuti ha trovato soltanto un tiro da 3 con Perez e poi null'altro, è ritornata sotto l'Urania a meno 4, che ora con due tiri liberi per Paleari potrà pure accorciare ad un solo possesso di svantaggio. Esce Elia Antonio per Milano, ritorna in campo il lungo Piunti, in lunetta Paleari, classe 81, alla sesta stagione con l'Urania, segna il primo. Dentro anche il secondo, senza nemmeno smuovere la retina, può ripartire Desio con Villa, poco più di un possesso alla fine del primo quarto. Busetto, Busetto, va da Valentini, consegnato per Villa, Villa scarica da Brown, 7 secondi, Busetto, sarà lui a prendersi il tiro, anzi no, perde palla, forse Perez, 2, 1, forza, non trova neanche il ferro. Sulla sirena, non arriva tanto la mazza nemmeno al ferro, finisce il primo quarto con Desio avanti di 2 sul 20-18, a risentirci per il secondo periodo. Andiamo a vedere anche quello che succede sugli altri campi, ricordando i risultati acquisiti dalla serata di ieri. Cremona che batte San Vendemiano 8-8, 7-8, Ozzano che batte Vicenza 8-8, 7-9, la vittoria di Lecca a Olginate 6-6, 5-5. Olginate che è venuta a vincere al Palamoretti e poi ha perso praticamente con tutti. Vediamo il big match tra la prima e la seconda della classifica, Cesena avanti di 10 a Faenza al tredicesimo. Padova conduce 25-24 contro Lugo, Crema conduce 17-14 su Bernareggio, Reggio Emilia sotto di 7 in casa contro Orzi Nuovi. Statistiche della partita invece qui al Palamoretti, con Perez che con 11 punti, frutto di un 3 su 4 della lunga distanza. A cui ha aggiunto anche due rimbalzi e a quota 11 il miglior marcatore della gara. Per Milano il miglior marcatore è il capitano Paleari, a quota 6 punti. La lotta a rimbalzo la sta vincendo per ora Urania 9-7. Con Desio che però ha catturato due rimbalzi offensivi contro gli zero della formazione ospite. Si riparte quindi con la palla che è di Desio, Quintetti che hanno finito il quarto. Desio con Villa, Perez, Busetto, Braune e Valentini. Milano con Santolamazzo, Simoncelli, Negri, Piunti e Paleari. 20-18 Rimadesio, si riprende a giocare. Busetto trova in emergenza Valentini, che poi dà palla a Villa. Perez, Bada Brown per Villa, pronta a tornare anche Toffoli per Coach Villa. Valentini chiude il break ospite con un canestro dal cuore dell'area. Solo rete, Santolamazza riporta in avanti Urania. Finalmente Desio ha trovato due punti. Intanto Santolamazza, marcato stretto da Busetto, Bada Piunti. Che può giocare col fisico contro Braune, alza la parabola. Grande canestro per il centro di Urania. Che riporta i suoi ad un solo possesso di distanza. Intanto Villa da Perez, potrebbe attaccare l'aria. Poi scivola Santolamazza, si prende un tiro da tre Perez, corto. Non controlla Valentini, controlla invece Paleari. Che ferma il contropiede, poi Noluk per Santolamazza. Vuole ragionare Milano. E lo fa col suo play. Che scarica ancora da Piunti. Negri si prende un tiro da due. Pareggia e impatta la partita sul 22 pari Milano. Per la prima volta in equilibrio il match. Villa ancora da Perez. Perez torna dal play. Blu-arancio. Potrebbe giocare a due con Valentini. Si prende un tiro. Che entra. E ritorna a segnare. Dopo più di un mese Villa. E Santolamazza riporta avanti Milano. Canestro importante che sblocca il classe 97 scuola Olimpia Milano. che ha bisogno di ritrovare un po' di fiducia. Valentini salta. Sulla finta di Paleari. Spende un fallo. Credo che Paleari andasse in rotazione. Andasse in panchina in Serie A con Fabriano. Quando Valentini doveva ancora nascere forse. Mentre è pronto a tornare Giovanni Lenti. Si va a prendere minuti di riposo. Valentini che comunque ha fatto vedere le cose positive. È in crescita. Il ragazzo romano. Paleari dalla lunetta. Per impattare la parita a quota 24. Lui che in stagione viaggia a quasi 12 punti e si rimbalzi di media. Il primo è lungo. Mentre è pronto a tornare Giacomelli. Buono il secondo. Desio rimane a più uno. Cambio. Esce Villa e torna Giacomelli. Si ritorna a giocare. Busetto. Che prova a superare la metà campo contro la pressione di Toffali. Pallone per Giacomelli. Che rischia di perdere palla sull'anticipo di Negri. Busetto. Con Perez che viene bloccato da Simoncelli. Busetto dalla media distanza. Conclusione che non va. Negri controlla il rimbalzo. Urani esetisce il possesso per il primo vantaggio di serata. Simoncelli va in punta da Piunti. Toffali. In isolamento contro Brown. Arresto e tiro. Senza la difesa. Conclusione che non va. Alto rimbalzo di Perez. Desio rimane avanti. Perez accelera. Entra. Non è buono il tentativo di mandare la palla dentro. È comunque un fallo. Bull di rabbia da parte di Perez. Che incita il pala Moretto. Rimessa come al solito per Giacomelli. Rientra Santo Lamazza. Esce Simoncelli. Giacomelli. Va da Lenti. Lenti potrebbe giocare contro Paleari. Poi va da Giacomelli. Perez. 10 secondi sul cronometro. Deve accellerare. Si butta in mezzo a due. Poi rischia di perdere palla. Poi la perde del tutto. Riparte Santo Lamazza. Toffali. Desio sta segnando poco ultimamente. C'è Piunti. Che viene stoppato da Busetto. Che riesce anche a guadagnare la palla. Edesio mantiene un punto di vantaggio. Busetto rimette la palla in gioco. Giacomelli la restituisce. Chiama un tre basso. Supera la metà campo. Va sempre da Perez. Marcato stretto. Pressato forte da Toffali. C'è sotto Libero Lenti. Stoppato da Paleari. 7 secondi. 6. Deve accelerare. Stoppato per la seconda volta da Paleari. Che porta avanti i suoi. Scarica da Piunti. Dai vai. Libero Paleari. Primo vantaggio del match per Urania. Con Busetto. Che gestisce la manovra di Desi. Posteva starci un fallo su Lenti in precedenza. Gli arbitri non hanno ravvisato l'irregolarità. Busetto si butta dentro. In faccia Paleari. Rende pan per focaccia. Rimette la faccia avanti Desio. 26-25. Partita palpitante al Palamoretto. Toffali va in punta da Paleari. Riceve Santolamazza. Santolamazza chiama lo schema. Piunti contro Brown. Si aggancia. Prova a buttarsi dentro. Conclusione che non va. Giacomelli mantiene il rimbalzo. Con gli arbitri che bisogna dirla tutta. Nel pitturato fischiano poco le ambo le parti. Brown trova Busetto. 9 secondi per chiudere l'azione per Desio. Busetto contro Piunti. E poi c'è il fallo di Piunti. Che ha provato a prendere lo sfondamento. Non aveva posizione difensiva secondo la coppia arbitrale. Pronto a tornare Santolamazza. Pronto a tornare Elia Antonio. Scusate. Secondo fallo per il numero 2 classe 90. Che in stagione è il miglior marcatore di Urania. A 16 punti. 8 rimbalzi e 2 assist di media. Mentre ha segnato la Lazio. D'altronde quando gioca Asher in centro alla difesa. Questi sono i risultati. Annullato con la VAR. Busetto dentro il primo libero. 2 punti. Di vantaggio per Desio. 2 su 2. Desio torna ad avere un possesso pieno di vantaggio. Santo Lamazza. Porta avanti i suoi. Partita che è diventata punto a punto dopo un mini break iniziale di Desio. Intercetta palla Giacomelli. che blocca la manovra milanese. Si incarica della rimessa il giovane classe 98 Toffoli. Scuola Olimpia Milano. Scarica la palla ancora da Santo Lamazza. da Elio Antonio. Entrato al posto di Piunti. Santo Lamazza si alza da 3. Prima tripla per gli ospiti che trovano la parità a quota 28. Busetto da Brown. Ancora a secco di punti. Poi Busetto da Perez. 9 secondi. Attacca. Rischia di perdere palla. Poi la perde del tutto. Nuovamente. Riparte Negri. Ancora la Santo Lamazza. il play classe 83. Chiede a Delio Antonio un movimento per andarsela a giocare in posto contro Giacomelli. Viene fischiato fallo a Olivier. È pronto ad entrare e fare esordine alla partita al giovane classe 99 Beretta. Autore di grandi prestazioni nelle recenti partite desiane. Esce Busetto per fargli posto. Vediamo se Beretta avrà impatto in questa partita come ha avuto per ora in tutta la stagione. Paleari. 28 pari. 4.30 per chiudere il secondo quarto. Riceve di Antonio. Santo Lamazza contro Beretta. Negri. Lasciato colpovolmente solo. Lo conosciamo bene. Sceghi al Palamoretto. Non fallisce queste occasioni. Più due. Massimo vantaggio di serata per ora per Urania sul 30.28. Parzella aperto di 5.0 per gli ospiti. Beretta contro Elio Antonio. Trova dentro Lenti. Lenti contro Paleari. Gli mette due punti in testa. Chiede i tre secondi Davide Villa. Parità quota 30. Ancora dall'altra parte Negri contro Giacomelli. riceve Toffali che prova a trovare Gli Antonio. Pallone sporcato. Gli Antonio fuori per Toffali che si alza da tre. Tripla importante avversaglio per Milano che ora è a più tre. un possesso pieno di vantaggio per gli ospiti. Perez da Lenti in punta la restituisce fallo fischiato a Toffali. È il terzo di squadra a tre minuti e 27 alla fine del secondo quarto prima della pausa lunga. Sarà rimessa dal lato se ne incarica Giacomelli. Va da Lenti liberissimo poi Perez Beretta Brown Giacomelli sette secondi per portare a termine l'azione forza rischia di perdere palla grande movimento del principe che con il dolce aiuto della tabella trova due punti fondamentali per rimanere a contatto. Ancora Assanto Lamazza da Negri sotto Assanto Lamazza tiro cortissimo riparte Perez che chiede calma ai suoi vuole giocare con tutti i 24 secondi Giacomelli si prende una trip da lontanissimo forzata ma aveva spazio Ghirelli applaude in panchina ancora Assanto Lamazza intercetta Giacomelli e la palla è di Desio perché l'ultimo tocco è dell'ex Negri ritorna Simoncelli ed esce Santolamazza torna anche Capitan Fiorito e si va a prendere qualche riposo minuto di riposo Giacomelli meno uno palla in mano per Desio due minuti e 35 secondi sul cronometro del secondo quarto Fiorito va da Lenti Lenti per Perez Perez batte Toffali con un chiaro fallo secondo me ma per l'arbitro è tutto regolare sbaglia la conclusione Perez Simoncelli Simoncelli contro Beretta riceve ancora Toffali gioca due con Paleari Paleari contro Lenti si appoggia Altabellone ne mette altre due torna più tre Milano ora è Beretta che porta palla Lenti ancora per Beretta che va da Capitan Fiorito contro Andrea Negri allora che torna ancora dentro da Lenti contro Paleari lo sposta correttamente secondo gli arbitri ne mette altri due Desio rimane a meno uno Simoncelli da Toffali chiedevano un follo in attacco dalla panchina di Milano intanto esce Simoncelli scarica da Paleari poi Elia Antonio taglio di Simoncelli perso da Beretta la palla però finisce da Paleari tiro carino indietro cortissimo e riparte Perez un minuto 18 ancora ma la Beretta Beretta ha spazio da due non se lo prende poi attacca contro Simoncelli rischia di perdere palla si pare a incasinare nel traffico dell'aria poi Toffali si alza la tre sbaglia Perez chiede qualcosa a Beretta poi va da Brown si riprende il pallone ancora Beretta Perez contro Simoncelli da tre da tre Perez sbaglia dopo le prime triple messe a inizio partita Desio non sta più segnando da tre nonostante questo però non ha punteggio è ancora sul 34 a 35 per gli ospiti intanto Simoncelli gioca col cronometro vuole andare uno contro uno contro Perez e Perez spende un fallo soltanto il terzo di squadra saranno 14 secondi ancora azione per Milano Desio che dopo il 4 su 5 iniziale ha trovato uno 0 su 5 da tre ha qualcosa a dire l'arbitro Perez Negri va da Elio Antonio pallone che torna Simoncelli contro Beretta fallo di Beretta sulla partenza Desio risce solamente ora il bonus lascia 10 secondi a Orania per chiudere e Coach Villa chiama il time out ma andiamo a vedere quello che sta accadendo sugli altri campi del girone B all'intervallo Cesena mantiene il vantaggio di 7 punti a Faenza Lugo conduce 4-2-3-7 a Padova Crema avanti 28-23 su Bernareggio Orzinuovi avanti 33-26 a Reggio Emilia statistiche della partita invece che vedono Perez essere ancora il miglior marcatore di Desio a quota 11 punti ma sono 11 punti che sono arrivati tutti nel primo quarto per gli ospiti anche Paleari è arrivato a quota 11 Desio che tira 4 su 12 da tre punti dopo il 4 su 5 iniziale lotta a rimbalzo che premia gli ospiti 15-14 Madesio ha conquistato tre rimbalzi offensivi 11 canestri assistiti contro 6 per Urania mentre le palle perse sono tre per squadra vediamo ora come usciranno le squadre dal time out Davide Villa sta disegnando il tempo è esaurito abbondantemente si continua a parlare mentre è entrato Manuel Riva classe 99 di squadra di Esi in prestata Urania lo scorso anno campionato in Cigold a Cernusco con buone prestazioni per lui riceve Santo Lamazza contro Perez Simoncelli sulla sirena conclusione che non va finisce 35-34 il primo tempo per Milano Desio è in partita a risentirci a breve per i secondi 20 minuti rieccoci dal Palamoretto per il secondo tempo della sfida tra la Rima Desio e la Super Flavor Milano gara valida per la nona giornata del campionato nazionale di serie B All Wild West all'intervallo Urania conduce 35-34 Sudesio Desio che era parita fortissima suon di triple toccando anche la doppia cifra di vantaggio non si è scomposta quando Urania è tornata in partita e ha provato ad allungare i ragazzi di Frates sono rimasti lì miglior marcatori per Desio Perez mentre per Urania è Paleari all'intervallo sugli altri campi andiamo a vedere com'è la situazione Cesena avanti di 9 su Faenza Lugo avanti di 5 a Padova Crema conduce di 12 su Bernareggio Orzinovi avanti di 8 su Reggio Emilia andiamo a vedere i quintetti che riprenderanno questa partita ricordando che la gara è diretta dai signori Lorenzo Grazia di San Pietro in Casale in provincia di Bologna e da Matteo Royaz di Muggia in provincia di Trieste tutto pronto vediamo i quintetti come dicevo Desio riparte con Busetto Lenti Giacomelli Perez e Fiorito vediamo anche lo starting five di Urania con coach Davide Villa che ricordiamo è stato premiato a inizio gara con una targa commemorativa da parte del presidente Ivan Papagliani per i suoi 11 anni trascorsi in Aurora tra il 2006 e il 2017 prima come allenatore del settore giovanile poi come prima squadra vediamo quindi chi riparte di Urania Elia Antonio Toffali Simoncelli Santo Lamazza e mi manca il quinto vediamo chi è mi manca il quinto giocatore di Urania è Piunti santo Lamazza gestisce il primo pallone di questo secondo tempo Simoncelli Simoncelli contro Perez Busetto si prende un tiro da due e va a bersaglio Desio torna in vantaggio sul 36-35 riattiva la manovra ospite ospite santo Lamazza da Simoncelli che ha spazio da tre lasciato colpevolmente solo dalla difesa blu-arancio non punisce non perdona e punisce con la prima tripla della partita l'ex Omenia che l'anno scorso nei playoff ha fatto molto male proprio contro Desio Perez sette secondi deve forzare viene raddoppiato fallo fischiato a Toffoli è soltanto il secondo personale primo però di squadra Giacomelli sempre da lenti in punta che trova Perez esce Busetto si prende un altro tiro da due questa volta un po' forzato Urania riparte con il santo Lamazza intanto si sono abbracciati si sono abbracciati lenti e Piunti e viene fischiato fallo a Busetto intanto Piunti perde un'occasione per chiudere la bocca santo Lamazza lo va a calmare è successo qualcosa con Piunti che ha aizzato il pubblico di casa forse con Valentini quando sono deragliati Sinceramente non ho visto Simoncelli prova a buttarsi dentro palla persa recupera Desio Perez spinge la transizione si butta dentro ed è parità con la 38 torna a segnare Daniel dopo il primo quarto si scalda anche il palo a Moretto Santo Lamazza vada Toffali Toffali ancora per Santo Lamazza riceve Piunti da lì nel libero sbaglia tocca per ultimo Palla Desio che ora può gestire il possesso di un nuovo vantaggio Busetti in palleggio vada lenti contro Piunti che muove le mani Busetto Giacomelli e poi c'è il fallo fischiato a Elio Antonio è il secondo fallo personale anzi il primo il secondo sì il secondo fallo personale per lui rimesso in donna l'attacco per Desio con 14 secondi sul cronometro dei 24 Giacomelli da lenti marcato stretto da Piunti che in tutti i modi lo provoca cerca il fallo in attacco ma Busetto lascia sul posto Simoncelli si butta dentro fallo del playmaker Exomania saranno due liberi del terzo personale per il testo 86 due tiri per Paolo Busetto il primo avversario si è ufficialmente scaldato il Palamoretto secondo libero esce sputato dal ferro riparte Omenia con Simoncelli si alza nuovamente la tre coach Frates si lamenta con Perez che non ha seguito il movimento del play di Milano che porta ancora i suoi a un più due Perez Perez gioca contro Simoncelli forza col sinistro non entra nel parte Milano Toffali sotto da Elio Antonio marcato da Capitano Fiorito che gli ruba palla in maniera fallosa secondo l'arbitro siamo di diverso parere qui in tribuna però è il secondo fallo del Capitano Simoncelli si incarica la rimessa più due Urania trova in emergenza Piunti vada santo la mazza fuori per Elio Antonio da casa sua tripla che non va Desio mantiene il possesso di palla stava rischiando di perdere palla in angolo chiuso da Elio Antonio perde il pallone Fiorito palla persa sanguinosa per Desio vediamo se ora Urania prova e riesce a mettere due possessi tra sé e i padroni di casa Simoncelli palla fuori per Toffali che si alza da tre conclusione che non va e poi c'è il fallo di Lenti su Piunti primo fallo per lui Santo la mazza si incarica della rimessa trovato Toffali verso la difesa poi Desio riesce a mantenere il possesso di palla buona difesa riporta avanti la rima Desio Busetto contro Toffali esce dai blocchi Perez nel traffico gioca due collenti che si butta dentro che scende a un gran canestro anche con un po' di fortuna Desio impatta la partita 41 pari a 5 minuti e 40 dalla fine del terzo periodo Toffali sfrutta il blocco di Piunti forse commette inflazione di passi non è così e fischia un doppio fallo a Lenti e Piunti che si sono abbracciati la palla rimane a Desio dopo il canestro di Toffali del terzo per il lungo di Milano il secondo per il caso 96 di Desio è pronto a tornare in campo Paleari proprio al posto di Piunti siamo pronti per rimettere la palla in gioco con Busetto Aspetta il movimento dei compagni è il capitano Fiorito a prendersi il pallone a trovare Giacomelli Giacomelli da Lenti Lenti vuole giocare contro Paleari che li lascia spazio l'ultimo a toccare è proprio Lenti altra palla persa in attacco per Desio mantiene due punti di vantaggio Milano che supera la metà campo in questo momento con Simoncelli Simoncelli trova Elio Antonio che va da Toffali più due Urania taglia Negri verso in punta Elio Antonio che mette palla per terra poi va dentro per Negri che ha la mano morbidissima time out chiesto da Frates che non viene accolato dal tavolo però quindi sul massimo vantaggio di serata di Urania Desio torna in attacco con 4 minuti e 38 secondi da giocare Lenti vada Perez Perez si butta dentro ne mette altri due meno due e si ritorna dall'altra parte con Simoncelli che porta su palla e torna da Negri Busetta prova l'anticipo Paleari ancora da Simoncelli Elio Antonio butta via un pallone recupera palla Busetto che va da Fiorito Fiorito contro Simoncelli dal cuore dell'area conclusione che non va a bersaglio ma c'è il fallo di Paleari che poi va a protestare due liberi secondo pallo per lui un po' di cinema che fa Paleari come al solito ma fa parte del personaggio esce Lenti e torna in campo Brown due liberi per il capitano Pulo Arancio dentro il primo dentro il secondo parità quota 45 quando siamo entrati negli ultimi quattro minuti di questa terza frazione ancora Simoncelli trova l'ex Negri ancora per il play in passato a Omegna cambio Paleari contro Brown palleggia e perde il pallone Paleari può ripartire Busetto subito da Brown c'è Perez poteva tirare la tre chiede spazio Coach Frates fallo fiscato a Paleari che cerca di rubare il pallone a Perez e finisce per commettere il suo terzo fallo due tiri per Perez perché è in bonus Milano lunghissimo il primo sono punti importantissimi questi dentro il secondo Desio torna avanti Simoncelli ancora porta avanti la manovra dei suoi Toffoli e poi Negri ancora con spazio la due non sbaglia mai Negri non sbaglia mai di ex a Desio fanno sempre male abbiamo già visto in passato Marino e Motta oggi è la giornata di Negri Perez sfilato al tiro da Simoncelli dietro schiena per Brown Brown che ancora è a secco quest'oggi Perez decide di attaccare si appoggia al tabellone gran canestro di Daniel Perez che regala ancora il vantaggio a Desio Simoncelli quando mancano due minuti e quaranta alla fine del terzo periodo para Toffoli Toffoli da Negri che entra appoggia al tabellone altri due punti Busetto per ridar vita alla manovra di Desio più un'Urania Busetto contro Toffoli va da Giacomelli nove secondi Desio ha costruito nulla si torna da Giacomelli che mette palla in mano a Fiorito che con quattro secondi si alza da tre punti e segna il capitano torna più due Desio attacco rotto di Desio che trova tre punti con una magia del classe 91 e si scalda anche il pala Moretto Eliantonio in angolo prova a rendere la tripla non va il rimbalza di Brown un minuto e 45 per chiudere il quarto Busetto riporta avanti i suoi Perez si butta dentro forzatura forzatura qua di Perez che non ci stava Toffoli riceve Negri fallo di Busetto che regala due liberi ad Urania ci voleva la tripla di Fiorito peccato che poi Perez abbia sprecato l'occasione di andare a due possesti di vantaggio nell'azione successiva e infatti si va a prendere dei minuti di riposo il Domenicano rientra in campo il classe 99 Beberetta quest'oggi non ha ancora trovato minuti per i coach Frates ci è abituato a rinserirlo solitamente nei quarti finali vedremo se sarà così anche oggi intanto il primo bersaglio per Negri già 10 punti a bersaglio anche il secondo doppia cifra consolidata da parte dell'ex Aurora supera la metà campo Busetto vada a Beretta 51 pari al Palamoretto Busetto finta attacca forse ha subito fallo non è di avviso lo stesso avviso l'arbitro che la cede a Negri intercetta Fiorito recupera la palla e vada a Beretta 4 basso invocato ad alta voce da Frates Brown ha portato un blocco inutile a Busetto che poi comunque ha deciso di attaccare e scaricare un pallone impossibile per Capitan Fiorito palla persa anche per Desio santo la mazza vada a Negri che è caldissimo è caldissimo Negri tripla dell'ex non sta sbagliando praticamente nulla palla ancora per Busetto Busetto strutta al blocco di Brown c'è Brown che ha spazio si alza anche lui da 3 la palla gira per più volte attorno al ferro e poi esce sfortunatissima Desio è l'ultimo possesso del quarto santo la mazza per regalare ai suoi due possessi di vantaggio cerca di scondare viene fischiato un fallo a Giacomelli che regala due liberi a santo la mazza e lascia 3 secondi per un ultimo possesso ad Esio tripla pesante quella di Brown che è stata sputata dal ferro potrebbe risultare decisiva a fine gara speriamo di no salto la mazza che il lunette è praticamente una garanzia dentro il primo tiro libero mentre Negri è arrivata a quota 15 punti col 100% dal campo 2 su 2 scontatissimo di santo la mazza massimo vantaggio Urania 4 secondi per chiudere l'azione Busetto forse con un fallo non per l'arbitro si va alla pausa lunga con Urania che allunga sul 5-6 5-1 grazie ai 15 punti di Andrea Negri a risentirci a breve per il quarto finale non per la mia grazie a breve Andiamo a vedere cosa succede sugli altri campi Cesena continua a condurre a Faenza di 5 lunghezze Crema più 12 su Bernareggio Lugo vince di 7 a Padova Orzinovi avanti di 4 a Reggio Emilia Sceghi che sta facendo una parita perfetta negri per Urania 5 su 5 da 2, 1 su 1 da 3, 2 su 2 ai liberi 19 di valutazione e un più 15 di plus minus Che in una partita punto a punto è tanta roba Miglior marcatore per Desio e Perez Perez, Palladesio che riparte con Giacomelli, Busetto, Lenti, Braune, Beretta Urania con Santolamazza, Negri, Eliantonio, Paleari e Toffali Pronto a tornare Anche Simoncelli Brutta persa di Giacomelli Non un ottimo inizio di quarto finale Negri Baleari Baleari fuori per Santolamazza Negri da 3 Urania scappa sul più 8 Perfetto Negri Non ha sbagliato veramente nulla 18 punti E più 8 Tutto costruito da lui Lenti si prende un tiro da 2 Non va Non va Desio deve stare attenta a non sprofondare Negri Da Santolamazza Toffali Poi dai Liantoni Negri ancora con spazio da 3 Altra tripla Altra tripla 21 punti E più 11 Time out Chiesto di urgenza Nel coach frates Grazie Parzialone di urania Che se non erro Dal 51-49 Desio Fa un bel 13-0 Per gli ospiti Firmato Quasi tutto Negri Cuore ingrato Ti vogliamo bene lo stesso Andrea Lenti Va da Busetto Perez Batte il suo Avversario E poi viene fischiato Un fallo Su 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 Lenti E' il primo fallo Di Santolamazza Rimessa in zona D'attacco Per Desio Che non segna Da una vita Lenti contro Paleari No Non ci credo Non ci credo Abbocca l'arbitro In maniera clamorosa Di Santolzarza Direi Dei Ma Sve Coin Sa Di Inerzio è completamente girata anche per gli arbitri Simoncelli va da Santo Lamazza Negri e finalmente sbaglia un tiro Andrea Rimbalzo di Desio che ora deve assolutamente segnare per provare a riprendere un po' di inerzia Beretta, va da lenti ancora Beretta per Brown che scarica in angolo per Busetto, ci metto una mano negri 7 secondi per chiudere l'azione per Desio Si Desio non segna ormai da parecchi minuti In questi minuti è avvenuto il parzialone che sta decidendo la gara da parte di Urania Brown tira la 3 Brown Primi punti del match fondamentali Desio ritrova il canestro e torna a meno 8 Deve essere d'aiuto soprattutto al palazzetto in questi minuti Finale Infatti si è avvivata la curva Simoncelli Simoncelli aspetta il movimento di Paleari contro Lenti Ancora Simoncelli finta da 3 Sotto ancora la Paleari contro Lenti Fallo fischiato a Lenti E' il quarto in punto Quarto fallo Dona e Campo Valentini Che dovrà essere molto utile alla causa contro Paleari Che intanto avrà a disposizione due liberi Per riportare i suoi a La doppia cifra di vantaggio Lungo il primo Non va Ne avrà a disposizione un secondo Prova a distrarlo il pubblico di Desio Ma è implacabile Manda a bersaglio anche questo E Desio sprofonda meno 9 Gusetto Supra la metà campo Aspetta Perez Perez si prende un tiro alla 2 Un po' forzato Entra Desio deve tornare a contatto E ci sta parzialmente riuscendo Con i canestri di Braune Prima e poi di Perez Simoncelli Simoncelli E' inciampato E' inciampato Paleari ragazzi Fischiato fallo ma è inciampato Dai Busetto Contro lo Santo Lamazza C'è da asciugare il parquet Con Urania Che è avanti ancora di 7 punti Santo Lamazza Si arriva la rimessa Vado a Simoncelli Piunti Si butta dentro Ne mette due Torna a più 9 Busetto Perez Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La palla è di Desio. Grazie a tutti. 13 secondi, palla a Valentini, molto lontano da Canestro. Aspetta Busetto, palla per Perez, fallo fiscato a Simoncelli. Ed è il terzo di squadra per Milano che raggiunge Desio a quota 3 appunto. E' pronto a rientrare Toffoli al posto di Simoncelli. 14 secondi sul cronometro quando mancano 6 minuti alla fine della partita. Palla fuori ancora per Valentini, che trova Busetto, Perez. Desio deve trovare due punti, Perez mette a sedere l'avversario, si alza da 3. E' tripla fortunatissima di Perez. Ma ci serve anche questo. Desio torna a due possessi pieni di svantaggio. Diventa caldissimo il pala Moretto. La palla per Negri, il giocatore con Paleari. Paleari, forza, sbaglia, fallo, in attacco, fischiato a Piunti. Quarto fallo di squadra. Desio recupera il pallone. Dai ragazzi. Costretto a chiamare time out Coach Villa. Grazie. 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 Santo Lamazza fuori per Piunti, ancora Santo Lamazza da 3, spegne l'entusiasmo ma abbiamo una partita, abbiamo una partita Luca. Abbiamo davvero una partita qua al Palamoretto, dopo che era avanti di 11 punti l'Urani è stata raggiunta, ora comunque ha un vantaggio risicato di 3 punti. Sotto per Valentini, gran passaggio di Perez, che assist, e non sbaglio Valentini, più uno Milano, 3 minuti e 58 secondi da giocare, Santo Lamazza, lo scoprate schieri di alzare il braccio in difesa, cerca di giocare a 2, con Paleari che si butta sotto, sbaglia, recupera Valentini calpestando però la linea. La palla resta all'Urania, 4 secondi, rientra Simoncelli al posto di Toffoli, rientra Elio Antonio al posto di Paleari, che rimane stupito del cambio e comunque va ad accomodarsi in panchina. 4 secondi sul cronometro. Intercetta Beretta, rimangono ancora 4 secondi sul cronometro. Stanto Lamazza, ancora batte con la rimessa, fuori da Simoncelli, che deve sparare da 3, sbaglia, il rimbalzo di Busetto. Busetto chiama un 2 alto per Teo Beretta. Esce Perez, si prende la palla, Dezo deve ragionare, c'è tutto il tempo, gioca bene a 2 con Valentini. 5 secondi, Valentini, troppo debole il suo tiro, non arriva al ferro, altro possesso per Milano per allungare. Salgono i decibel, scivola Santo Lamazza, la palla per Dezo, chiama Time Out Coach Frates, mentre verrà asciugato il parcheggio. 6-8-6-7, con Perez che è arrivato a quota 23 punti. E si fa sentire anche il pubblico del Palamoretto. Vediamo le statistiche della gara. per la lotta a rimbalzo che premia lotta a rimbalzo che premia gli ospiti 24 a 23. si riprende a giocare, 6-8 Urania, 6-7 Desio tre minuti da giocare palla a Desio Perez porta avanti il blu arancio si tira vistosamente la maglia di Brown per gli arbitri tutto regolare Perez contro Elia Antonio scarico per Valentini che poi va fuori da Busetto che torna ancora fuori ora difesa molto aggressiva quella di Urania Beretta se la sente forzatura forzatura peccato non va più uno palla in mano ora per la Super Flavor Simoncelli Simoncelli Sbaglia un altro tiro rimbalzo di Beretta Perez si alza da tre punti altra conclusione che non va forzatura Desio che spreca qualche occasione di troppo per rimettere la testa avanti Simoncelli da Piunti sotto la Santo Lamazza stoppato da Brown stoppato da Brown Beretta chiede calma Coach Frates giro esce Brown 14 secondi 1 minuto e 40 alla fine non si è più segnato dopo essere entrato di su perché dopo il time out che c'è da Coach Frates 6 secondi Beretta doveva prendersi sul tiro forse no va da Perez 2 1 forza Perez di tabella esce Beretta da solo da solo Beretta vantaggio per Desio 69 a 68 è rientrato in campo Paleari è andato a sedersi in panchina Piunti un minuto e mezzo alla fine Desio conduce 69 a 68 Simoncelli gioca a 2 con Paleari fallo di Valentini presuppongo è il quarto di squadra o forse di Brown è il primo fallo per Brown Andrei non è a Paleari che ha un po' accusato la botta è pronto a tornare in campo il capitano al posto di Valentini buona comunque la sua prestazione riceve gli applausi del Palamoreto due liberi per Paleari sbagli al primo Paleari sbagli al primo mi ha a disposizione un altro questo non lo sbaglia ritorna in campo Piunti al posto di Paleari Punteggio sul 69 pari un minuto e 15 ancora da giocare alza la pressione Milano la pallaberetta che va da Busetto deve accelerare ancora 3 secondi per superare la metà campo ci riesce ora Desio ha 14 secondi per portare a termine l'azione decide di attaccarlo scarica Fiorito Beretta palla brutta per Brown 7 secondi deve attaccare Perez non entra Ferro controlla Urania che supera la metà campo con Santo Lamazza Simoncelli predica 8 secondi per chiudere l'azione per Urania Simoncelli si butta dentro subisce il fallo non so di chi Fiorito due tiri per Simoncelli dentro il primo dentro il secondo Urania torna più due quando siamo entrati negli ultimi 30 secondi della gara Busetto va da Perez 20 secondi 10 per chiudere l'azione fallo su Perez sfortunata adesso in questa occasione poteva trovare il 2 più 1 ora serve però un 2 su 2 dalla lunetta quinto fallo di Simoncelli ma è pronto a tornare anche Lenti al posto di Fiorito torna anche Paleari al posto di Piunti dentro il primo ma è il secondo quello che conta veramente dentro il secondo time out Davide Villa 7-1 7-1 sugli altri campi Cesena conduce 5-8 5-3 a Faenza Padova ha sorpassato Lugo 6-6-6-2 Crema conduce D14 su Bernareggio Orzino avanti comodamente le 17 a Reggio Emilia ultima azione del periodo 15 secondi alla fine dei tempi regolamentari entrambe entrambe le squadre sono in bonus il punteggio è pari sul 71 pari vediamo cosa avrà disegnato Coach Villa in passato allenatore anche di Desio settore giovanile e prima squadra assistente rotto e tritto Negri va da Santo Lamazza Santo Lamazza contro Busetto aspetta proprio gli ultimi secondi e l'Antonio da due sbaglia finisce qua o meglio finiscono qua i tempi regolamentari sarà overtime al Palamoretto a risentirci a breve da due minuti grazie a tutti overtime quindi al Palamoretto tra Rima Desio e Super Flavor Milano 71 pari partita molto equilibrata con Urania che ha provato a strappare a inizio quarto finale ma Desio ha avuto una grande reazione tre triple in un minuto e ha messo in equilibrio la partita vediamo i quintetti rimane in campo Beretta Beretta Busetto Lenti Perez e Brown per Desio Negri Santo Lamazza Paleari Toffali ed Eli Antonio per coach Davide Villa per coach Davide Villa contropiede poi si ferma a difesa schierata prova a ragionare Lenti ancora da Perez Trova dentro Lenti che forse subisce fallo Dall'altra parte Paleari rimette palle in mano a Santo Lamazza ancora per Paleari l'imbalzo però è di Gio Lenti che poi perde il pallone un po' ingenuo però l'approccio è quello giusto bisogna metterci davvero tutto in campo ed è pronto sul cubo dei blocchi a tornare in campo Fiorito intanto Santo Lamazza non trova il ferro la palla esce rimane comunque all'Urania c'è stato un tocco probabilmente sotto canestro da parte di un blu arancio rientra Capitan Fiorito come anticipato esce Lenti la palla per Negri caldissimo sbaglia però in basso di attacco di Eli Antonio che appoggia due punti per il primo vantaggio di questo overtime per Milano Busetto Busetto scarica da Brown Brown va fuori da Fiorito che è entrato carico con la mano calda la tre la tripla era giusta ma non entra riparte Milano con Santo Lamazza e c'era un'altra parte Urania Toffali Elia Antonio fuori per Santo Lamazza fallo di Fiorito su Paleari due liberi per mettere due possesso di vantaggio tra le due squadre provo a tornare anche Piunti al posto di Paleari dopo i due liberi dentro il primo dentro il secondo 2 su 2 più 4 Urania con Desio che non ha ancora segnato in questi due minuti abbondanti di overtime Busetto va da Brown che gli rimette la palla in mano e riporta avanti la rima Desio fallo fallo di Elia Antonio che regala due liberi a cronometro praticamente fermo anzi è di Negri fallo primo fallo per lui due tiri per Perez che sbaglia il primo tiro libero dentro il secondo possesso pieno di vantaggio per Urania che però ora ha la gestione della palla santo la mazza riceve Toffali ancora santo la mazza verso Elia Antonio fallo di Beretta su Elia Antonio che avrà due tiri liberi dentro il primo il secondo è corto il rimbalzo di Desio quattro punti da recuperare ancora Perez dall'altra parte esce alto Elia Antonio forse commette anche fallo lo batte si butta dentro Perez non trova il fondo della retina forse c'era fallo nella penetrazione di Perez non sono dello stesso avviso gli arbitri che fischiano un altro fallo a Beretta in questo vabbè essere un po' più parziale il duo arbitrale hanno trovato pure la rima Andrea Lunetta santo la mazza per regalare i suoi due possessi pieni di vantaggio con circa due minuti poco meno da giocare in questo primo overtime dentro il primo cinque punti di vantaggio dentro anche il secondo può attaccare Busetto per Desio va subito da Perez viene raddoppiato Perez gioca due collenti sotto canestro finalmente gli arbitri concedono un fallo a Desio quando ha un minuto e 46 i padroni di casa sono sotto di 6 ritorna Paleari esce Piunti terzo fallo il Lunetta Livornese classe 96 abbiamo assolutamente bisogno di un 2 su 2 anche se i possessi di vantaggio rimarranno 2 per Urania dentro il primo dentro il secondo ma rimangono sempre due possessi di vantaggio per la Super Flower che a un minuto e 40 alla fine della gara ha in mano la partita santo la mazza Paleari su lenti fuori per Elia Antonio da 3 cortissimo ma Paleari prende il rimbalzo si avvicina al ferro passi passi inflazione di passi di Paleari recupera Palladesio Perez riporta avanti Desio minuto e 14 da giocare Busetto va da Brown arresto e tiro di Brown che non va entriamo nell'ultimo minuto più 4 Urania palla in mano poteva ragionare un attimo Brown si è preso un titolo a 2 un po' forzato ora Urania quando mancano 50 secondi ha pure palla in mano fa in angolo Dei Antonio sotto da Piunti 5 secondi Toffoli da 2 si alza a bersaglio 41 secondi e due possessi pieni di vantaggio per Milano che ha messo una serie ipoteca sul match si alza la 3 Perez sbaglia finisce qua la partita Desio non fa fallo o forse si adesso con Beretta sono rimasti 25 secondi Andrea Lunetta con due liberi Toffoli per dare 8 punti di vantaggio agli ospiti sbagli al primo segna il secondo Perez deve velocizzare e prende su un tiro da 3 gli scappa la palla dalle mani è finita qua è definitivamente finita qua Poneglia Antonio che appoggia il più 9 ospite al tabellone Gusetto vara Brown Brown da 3 da 3 Brown 5 secondi alla fine finisce qua 77 83 per l'Urania buona prestazione comunque di Desio che si deve arrendere soltanto all'overtime agli ospiti ora frappile 12 les arrendere qui s o